E adesso è diventata una star Signore e signori, per la prima volta in Italia al Festival di Sanremo, Susan Boyle! Signore e signore 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 Grazie a voi dell'invito, è stato veramente una gioia per me Grazie a Oda Fernando che senza di lei mi sento persa sulla traduzione simultanea che ho detto è la cosa che mi spaventa di più al Festival. Volevo chiedere a Susan, è la prima volta in Italia, so. Che impressione ha avuto? Le piace? Amo l'Italia e spero veramente la tua vita e spero veramente la tua vita e spero veramente la tua vita e spero veramente di potervi fare ritorno presto, soprattutto per la gente qui che è magnifica. Come è cambiata la tua vita è cambiata la tua vita è cambiata la tua vita è cambiata. I sogni non hanno una data di scadenza, mi auguro quindi che questo mio sogno possa continuare. Ha ragione, grazie Susan per essere stata con noi questa sera, grazie perché la tua storia ha dimostrato che il vero talento quando c'è, prima o poi si afferma nonostante tutto, Sara ti porta e ti consegna i fiori di Sanremo. Grazie a Susan Boyle, grazie, grazie, thank you so much. Prego, grazie a Olga se puoi accompagnare Susan. Che bello, com'è bello realizzare i propri sogni, anch'io stasera ho realizzato il mio nell'essere qui con voi, grazie.